Amici di Football is My Life e Guru Fans, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video di presentazione del campionato di Serie A 2016-2017, campionato che inizierà oggi alle 6 del pomeriggio con la partita Roma-Udinese. Ma adesso iniziamo ad analizzare le 20 squadre. Ah, una piccola premessa, il video lo registro oggi che è sabato 20 agosto, però non escludo che posso uscire con qualche giorno di ritardo perché qua sono ancora al mare e non c'è connessione quasi da nessuna parte, in spiaggia c'è il wifi però si attacca sempre a mezzo mondo quindi non è che possa fare più di tanto, però comunque adesso non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo il video. Allora, Atalanta. L'Atalanta ha un nuovo allenatore, Gasperini, ha comprato qualche discreto giocatore che va bene per ottenere una salvezza tranquilla, risultato che secondo me può anche ottenere e dato che l'Atalanta ha un ottimo vivaio potrà anche lanciare qualche giocatore giovane interessante anche perché Gasperini è un allenatore bravo a lavorare con i giovani. Poi Bologna. Il Bologna ha comprato dei giocatori giovani, non ha rafforzato la squadra in modo evidente, però la conferma di Donadoni potrà essere un punto in più e il risultato secondo me sarà anche quest'anno una salvezza tutto sommato agevole. Cagliari. Il Cagliari, tra le non promosse, è la squadra che si è rafforzata sicuramente di più prendendo giocatori che sicuramente vanno bene per ottenere una salvezza tranquilla. Io sinceramente non so se tutti questi potranno rendere secondo le aspettative, però sicuramente la squadra riuscirà ad ottenere la salvezza. Poi Chievo. Il Chievo è praticamente la squadra degli ultimi anni, a parte il ritorno di Sorrentino in porta, si è sempre salvata, penso che si salvi anche quest'anno. Crotone. Il Crotone è all'esordio in Serie A. La squadra non promette grandi sogni, però può avere l'entusiasmo dalla sua parte. Non mi convince tanto la scelta di puntare su Nicola come allenatore. Nicola è un allenatore che a me non è che piaccia tantissimo, però può comunque giocare con lo stesso modulo che usava l'anno scorso la squadra, senza snaturarla. Nel calcio non c'è quasi nulla di scontato, però secondo me il Crotone è destinato a scendere in Serie B. Empoli ogni anno dovrebbe retrocedere, l'anno scorso gli hanno depennato mezza squadra, quest'anno è la stessa cosa, però comunque ha preso qualche buon elemento. La scelta di puntare su Martuscello come allenatore è una scommessa rischiosa, ma allo stesso tempo saggia, rischiosa perché non ha mai allenato in Serie A, saggia perché comunque l'Empoli da tanti anni conosce l'ambiente. Il rischio di retrocedere sicuramente c'è, però la squadra può confermarsi su quello che ha fatto negli ultimi anni da quando in Serie A. Io opto per la salvezza. Fiorentina. La Fiorentina è praticamente la stessa squadra dell'anno scorso, ha comprato dei giocatori negli ultimi giorni, io non li conosco a parte De Maio e quindi non li posso valutare. La condizione fisica però è un po' in ritardo rispetto alle rivali. Sarà dura, secondo me, arrivare in Europa, però vedendo il livello non eccelso dopo Juve, Roma, Napoli e Inter, secondo me può ancora confermare il posto in Europa League. Poi Genoa. Genoa che ha Juric come nuovo allenatore, Juric, allievo di Gasperini. Io in inizio estate avevo visto il Genoa come una delle possibili rivelazioni del campionato perché, come ho detto prima, Juric è un allievo di Gasperini, conosce l'ambiente, e avrebbe giocato nello stesso modo in cui giocava Gasperini, senza snaturare la squadra. Però il cambio modulo mi lascia qualche dubbio in più, sono curioso di vedere come andranno le cose, però la salvezza dovrebbe essere scontata. Poi Inter. Inter che si è rafforzata bene sul mercato in quasi tutti i reparti, ha cambiato da pochi giorni l'allenatore, Mancini è andato via, è arrivato De Boer, De Boer ha avuto poco tempo per ambientarsi nel calcio italiano, non conosce la Serie A, però c'è da dire una cosa, De Boer ha una sua idea di calcio, cosa che Mancini non aveva. Secondo me l'Inter ad ogni modo si classificherà nelle prime quattro posizioni, dal secondo al quarto lottando per la Champions League. Poi Juve. Juve che ha fatto un ottimo mercato, è stata la regina del mercato, è andato via Pogba, però comunque sono arrivati grandissimi giocatori, come Pjanic, Dani Alves, Benatia, Piazza, Higuaín. L'unico dubbio potrebbe essere l'integrazione di tutti questi giocatori e il modo in cui si integreranno Higuaín e Dybala. Quest'anno la Juve del mercato che ha fatto punta chiaramente a vincere la Champions, mentre per quanto riguarda lo scudetto rimane assolutamente la favorita. Poi Lazio. La Lazio ha fatto un buon mercato, si è comportata bene, conoscendo di standard di Lotito che è veramente un culo verde, ha il braccino proprio corto, 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 è una roba impressionante. Comunque si è mossa bene sul mercato. Non mi piace invece la scelta di puntare ancora su Simone Inzaghi come allenatore, però ad ogni modo secondo me la Lazio lotterà regolarmente per arrivare in Europa League, tenendo poi anche conto che quest'anno non ha le coppe. Milan. Il mercato del Milan è stato abbastanza negativo, anzi molto negativo, è arrivato solo la Padula e Gustavo Lopez, e poi è arrivato anche Sosa dal Besiktas. Non mi convince tanto, Montella è un buon allenatore, però per fare il suo gioco deve avere dei giocatori adatti a farlo. Quali del Milan non mi sembra che ce ne siano tantissimi. Oggettivamente si pronuncia un'altra stagione difficile, però è anche difficilissimo immaginare che il Milan per 4 anni di fila non vada in Europa. Tra tutte lì non ce n'è una che mi dà una sicurezza al 100%, quindi ha qualche possibilità di rientrare in Europa, ma non mi sorprenderei se non ce la facesse nemmeno quest'anno. Napoli. Il Napoli in estate ha perso Iguain, sono arrivati altri giocatori come Milik in attacco che dovrà sostituire Iguain, Milik che durante il campionato si alternerà con Gabbiadini, Gabbiadini che però non è una prima punta, è una seconda punta esterna adattata anche a fare la prima punta, dove non rende al 100%. Sono arrivati poi anche altri giocatori giovani di prospettiva che possono essere delle buone seconde linee. Lottare per lo scudetto secondo me è difficile perché la Juve è veramente forte, però può confermarsi almeno in Champions, cioè arrivare terzo. è un po' come il discorso dell'Inter, secondo me insieme a Roma e Inter, in Napoli si giocherà il secondo posto. Poi Palermo. Il Palermo si è notevolmente indebolito perché l'anno scorso è andato via Di Bala, quest'anno sono andati via Gilardino, Franco Vazquez e Sorrentino. rischia seriamente di retrocedere. Zamparini non dovrà assolutamente fare il pazzo come l'anno scorso, mandando via tutti gli allenatori perché con questa squadra è veramente difficile fare qualcosa di importante. E temo che il Palermo sia una delle candidate a scendere. Pescara. Il Pescara è una squadra di giocatori giovani, abbastanza inesperti, però a mio modo di vedere è un po' superiore al Crotone. Lotterà per non retrocedere, mostrerà tanto cuore e grinta, però alla fine ci saluterà. Roma. La Roma in estate ha perso Pjanic a centrocampo, però comunque rientra Strockman, scusate, è tornato Paredes dal prestito, un giocatore che secondo me è molto bravo. Si è rafforzata un pochino in difesa, poi quest'anno parte dalla prima giornata subito con Spalletti. Lottare per vincere lo Scudetto secondo me è molto difficile, però comunque si contenderà il secondo o terzo posto con Napoli e Inter. Poi Sampdoria. La Sampdoria in estate si è comportata abbastanza bene nel Micheoli. Sono curioso di vedere Giampaolo su una piazza abbastanza importante come Genova. Secondo me la squadra otterrà una salvezza abbastanza tranquilla, lottando sporadicamente magari anche per un posto in Europa League. Sassuolo. Il Sassuolo ha avuto un grandissimo impatto nell'Europa, eliminando il Lucerna e vincendo molto bene contro la Stella Rossa. non si è rafforzata tantissimo sul mercato, però comunque secondo me quest'anno la squadra ha sempre una buona base, un grandissimo allenatore. Sassuolo secondo me è la piazza migliore in Italia, sia per i giovani che per costruire un futuro importante. Il doppio impegno può pesare, però secondo me la squadra lotterà costantemente per l'Europa League. Il salto in avanti che ha chiesto Squinzi per quest'anno non è che è accantonato, è solo rimandato per un po'. Poi Torino. Il Torino è stata un'altra squadra che si è rinforzata bene sul mercato prendendo buoni giocatori. Ha Mijailovic come nuovo allenatore. Mijailovic è un allenatore esigente che pretende molto dai suoi giocatori. Secondo me il Torino quest'anno sarà una squadra tosta e difficile da affrontare per tutti e dopo un anno un po' così e così tornerà a lottare per l'Europa. Udinese. Allora l'Udinese negli ultimi anni lancia ancora qualche giovane, però non è più la squadra ammiziosa di una volta per svariati motivi. quest'anno ha perso Di Natale che ha finito la carriera. Prevedo un anno difficile, però alla fine secondo me riuscirà a conservare il posto nella massima serie. Va bene ragazzi, per oggi è tutto. Io come al solito mi invito a iscrivervi al canale, iscrivervi alla pagina Facebook, a seguirmi sul sito Guru Fans e a tutti voi, qualunque squadra ratifiate, io vi auguro un buon campionato. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video col commento della prima giornata. Ciao!